Ma siamo qua per difendere il futuro dei nostri figli e io ringrazio per il coraggio delle sue azioni, per il lavoro che fanno quotidianamente decine di migliaia di uomini, delle forze dell'ordine io ringrazio il segretario generale del SAP, sindacato autonome di polizia Gianni Tonelli perché loro sono quelli che rischiano con Mare Nostrum, grazie a quei geni di Renzi e Dalfano loro arrestano i delinquenti che poi ritrovano in strada al giorno dopo e a loro va tutta la nostra solidarietà grazie a Gianni e grazie a tutti gli uomini delle forze dell'ordine che difendono questo povero paese grazie a te Matteo, grazie di questa opportunità non ne faccio trovare una sensibilità, il coraggio di schierarsi a nostro favore quando c'è da dare dosso un poliziotto il partito dell'antipolizia prende coraggio e solo pochi hanno il coraggio di difenderci grazie Matteo, grazie di questa opportunità carissimo Presidente Renzi vorrei dirti due parole oggi da servitore di questo paese prima di procedere con alcune considerazioni su questa manifestazione e sul suo tema Mare Nostrum vorrei sottolinearti che io e tutti coloro che hanno aderito a questa manifestazione sono brave persone che conoscono e praticano il concetto di laica solidarietà e di carità cristiana non ci sono pregiudizi o egoismi ma come sa la strada dell'inferno è la stricata di buone intenzioni e se continuiamo sul percorso intrapreso finiremo con il rottamare non il vecchio ma il nostro paese dobbiamo ammainare le bandiere del pregiudizio ideologico e dismettere gli occhiali con lente polarizzate per analizzare la realtà e i problemi per quello che sono bisogna rispolverare la bussola del buonsenso da poliziotto dico che non ha senso mandare i miei colleghi a mani nude a soccorrere e gestire i migrati e clandestini come è successo anche questa settimana in Liguria o come succede tutti i giorni sulle strade del nostro paese se non si ha rispetto per i miei colleghi almeno si pensi che un poliziotto ammalato è una risorsa perduta è un costo per la collettività che qualcuno dovrebbe risarcire viste la stupidità di base alla base del danno cagionato i miei colleghi vengono ogni giorno vengono contagiati da tubercolosi e scabbia anche a distanza di mille chilometri dei punti di sbarco a causa della mancanza di una cintura sanitaria per loro e per i cittadini è buon senso questo? è buon senso consentire agli stranieri che non siano almeno nei primi giorni sottoposti ad alcuni limiti e in conseguenza di ciò siano liberi di uscire dalle strutture in cui sono ricoverati e interagire liberamente con la comunità del nostro paese? è buon senso non disporre che siano tenuti a sottoporsi a fotosegnalamento accertamenti medici e cure mediche? dovremmo in questo modo garantirci solo il profilo sanitario o è una protesa disdicevole? le mafie brindano perché nelle zone di sbarco le questure sono ingolfate da operazioni collegate alle operazioni degli sbarcati i tagli agli organici e la mancanza di coraggio nel promuovere una vera riforma dell'apparato sicurezza ci debilita ancora più sette forze di polizia sono un carrozzone che le buste paga dei miei colleghi e le tasche delle famiglie e delle imprese non possono più sopportare solo nella polizia di stato mancano 18.000 poliziotti 40.000 in tutte le forze di polizia in questo contesto la situazione e la gestione degli immigrati ci espone ogni oltremodo come tutti voi ben sapete purtroppo in questo paese strano ogni asino che raglia ci porta alla sbarra e nella situazione in questione la nostra condizione vi assicuro è veramente precaria la percentuale di concessione dello status di rifugiato è la più alta d'Europa 60-70% mentre gli altri paesi vanno dal 20 al 40% è forse di buon senso questo? gli stranieri vengono in Italia da altri paesi europei a richiedere un permesso e addirittura pensate prenotano preventivamente l'albergo dove sanno che la polizia li ospiterà lo abbiamo verificato a Gorizia e da altre parti il ministro Alfano assicura che nessuno immigrato porta via il lavoro ai nostri giovani soprattutto al sud quindi i nostri giovani lavoreranno per mantenere gli ospiti oppure li condanneremo alla necessità e quindi al crimine da un ministro dell'interno mi aspettavo un'altra soluzione ma ce ne faremo una ragione parlando di buon senso è secondo voi di buon senso dispensare una speranza in un continente martoriato dalle guerre dalle carestie dalla disperazione o dobbiamo aiutarli nelle loro terre quest'anno abbiamo decubblicato il fenomeno arrivando a 150.000 sbarchi se la speranza condurrà sulle nostre coste 500.000 persone o un milione di disperati cosa faremo? nessuno pensa a un filo spinato nel Mediterraneo ma non possiamo neppure innescare esodi biblici perché non saremo nella condizione di sopportare l'urto sotto tutti i profili da quello economico a quello socio-culturale Presidente Renzi dobbiamo rottamare la stupidità e seminare nel campo del buon senso meglio un comitato di Massaie che è un collegio di tromboni prezzolati i poliziotti chiedono rispetto per la loro dignità da un mese lei e i suoi ministri avete sicurato in televisione nei giornali su Twitter e su Facebook che la discriminazione del tetto salariale danno degli operatori del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico sarebbe stato eliminato con la legge di stabilità il testo che abbiamo in mano ci dice chiaramente il contrario ci avete chiaramente fatto intendere precedentemente che saremmo ritornati alla normalità alla situazione persistente serviva 10 ci avete dato 5 e ci avete fregato 20 dietro le spalle questo non è corretto è inaccettabile ma so cosa potremo fare non lo so siate ne certi però che la responsabilità politica di questo riusciremo a farvelo assumere siamo servitori di questo paese non servi e chiediamo solo rispetto grazie Matteo grazie a tutti i miei colleghi che oggi hanno fatto il proprio lavoro per fare quello che in un contesto democratico si deve fare tutelare le persone che vogliono manifestare pacificamente e senza armi grazie grazie a tutti grazie Matteo grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei Grazie.